Ciao a tutti. Ciao. Allora, In The Travel Jukebox è particolarmente rock. E infatti il pleno di oggi è un pezzo di toto che ci ha richiesto Francesco. Fravo, e questo pezzo abbiamo dovuto chiamare la cavalleria. Pesante. Pesante. Allora, buon miglio a tutti con Stop Loving You. Allora, buon migliore. 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 Allora, buon migliore.